scende infatti alla stazione di roma pablo neruda il poeta dell'amore il poeta del popolo posta ma lui don pablo com'è perché lui ha la moglie però come la chiama amore davvero è poeta da quello subiettato si capisce perché non potrebbe firmare tutta donna tutta donna come è possibile guardi non è mai visto una me lo rende unico messo come come si diventa poeta tu lo sai cosa hai fatto è una poesia ma puoi scrivere una poesia per beatrice se lei smette a fare tutte queste storie per una poesia mamma quando lo vinci il premio nobel